Inaugurazione in Pampamagna, sabato scorso a Biancavilla, della terapia intensiva dell'ospedale Maria Santissima Adolorata di Biancavilla, che sorge al quinto piano della nuova struttura ospedaliera, inaugurata all'interno della nuova struttura avvenuta nel giugno 2018, dopo 40 anni dalla posa della prima pietra. Nella giornata di venerdì, a fare visita all'avveniristico reparto di rianimazione diretto dal dottore Pietro Ciadamidaro, l'assessore regionale Ruggero Razza, che ha visitato in anteprima la struttura. Sabato al taglio del nastro erano presenti i sindaci del comune di Biancavilla, Adrano e Santa Maria di Licodia, gli onorevoli Ars Giovanni Bulla, Nino Dasero, Sandro Pappalardo, alcuni consiglieri comunali e diversi medici del locale Noso Comio. Presente anche il direttore generale dell'Aspi di Catania, Maurizio Lanza. È una giornata di ringraziamenti per me, perché è un altro bello obiettivo che la sanità raggiunge in questo territorio. È un ringraziamento per me di tutto al Presidente della Regione e all'assessore alla salute, l'Avvocato Razza, che mi hanno dato questo importante ruolo di responsabilità sulla sanità provinciale. Grazie al loro appoggio, grazie alla serenità con cui mi stanno facendo lavorare, stiamo raggiungendo importanti risultati su questo territorio. Grazie a tutti i sindaci di questo comprensorio che stanno dimostrando molta coesione, senza campanilismi, per un obiettivo comune che è quello di dare sanità migliore su questo territorio. Un grazie anche a tutti gli operatori dell'Aspi di Catania, amministrativi e sanitari, che hanno reso possibile l'apertura di questo importante reparto, che inizialmente parte con tre posti letto a livello prudenziale, ma che a brevissimo si snoderà sui sei posti letto che sono previsti per dare il servizio nella sua migliore completezza. Comunque da oggi diciamo che sarà operativo a tutti gli effetti? Assolutamente sì, il reparto di rianimazione può essere inaugurato e poi immediatamente diventerà operativo. L'ospedale di Biancavilla diventa quindi un punto di riferimento di un territorio assolutamente vasto e oggi inauguriamo la rianimazione, dobbiamo certamente registrare un'inversione di tendenze. In un momento storico in cui si parla di tagli della sanità, invece Biancavilla, l'ospedale di Biancavilla, vede grandi investimenti, vede l'apertura della rianimazione.